Ciao, io sono Miss Biancoala e questo è il mio canale dell'illuminazione, dove ti insegni ad applicare la legge di attrazione, e non solo quella, in maniera corretta ed efficace nella tua vita. Sono anche su Instagram e su Facebook, che sono due canali qua di avanti a supporto di questo qui di YouTube. E trovi il link di riferimento cliccando qui sotto nel box informazioni. Specialmente su Instagram, ogni giorno posto le storie di successo del mio team koala. Inoltre, frasi mantra, meditazioni, riflessioni, un sacco di materiale aggiuntivo. Trovi link di riferimento cliccando qui sotto nel box informazioni. Troverai link del mio blog, dei canali social e anche del mio servizio di consulenza. Il mio servizio di consulenza, un servizio mirato e dedicato per individuare e rimuovere tutto ciò che si frappone fra te e quello che intendi manifestare. Cosa, persona, evento, circostanze? In questo momento è un prezzo speciale per un breve periodo. Trovi link di riferimento dei miei social, del mio blog e dei servizi di consulenza cliccando qui sotto nel box informazioni. E ora passiamo al video della settimana. Pace, amore ed energia. Ed eccoci qui con un nuovo video. Yes, con un nuovo video. Questo video, già ve lo dico, sono stra sicura che vi piacerà, vi interessa a tutti. Vi dico già in anticipo di guardarlo più volte, prendere appunti e guardarlo più volte, sapere perfettamente, come ormai penso ho detto in sedicimila video, che il vostro ego ogni volta che andate ad ascoltare, a leggere qualcosa che sa di potenzialmente dannoso per esso, per la sua sussistenza, che li potrebbe portare del depotenziamento, sia un togliere del suo potere su di voi, vi fa un'opera di setaccio. Cioè, di un 100% di un argomento vi fa prendere un... grazie con la 20%, 30%, ok? Ecco perché tanti di voi quando spenti dal mio consiglio tornano a vedere nelle settimane, nei miei successivi miei video, è tipo, ma andero io quando questa parlava di questo? Perché era come se è stato rimosso totalmente, non l'ho proprio ascoltato, questo succede logicamente anche a me. Tante volte sono tornata, cioè io ho libri che mi sarò letta decine di volte e ogni volta scopo sempre qualche cosa che era tipo, sì vabbè, io sto libero a letto tipo già tre volte, dove cazzo ero? Mentre, cioè, spiegava, legge, cioè, scriveva questo passaggio qua, è normale. Il vostro ego va subito a mettere in atto una sorta di autodifesa per non farsi appunto togliere il potere. Poi, volevo leggervi questa letterina, la riesco a... gna gna, e vabbè regà, forse lo devo... forse così, no niente, ma sta fermo così, stai fermo? Forse devo togliere la rotazione, ok, gna gna gna, che ho pubblicato ieri su Instagram, su Instagram, però per chi non c'ha Instagram, ve la leggo, perché non è la prima, e neanche, credo, l'ultima, che ricevo su questo, su questa tematica, e vabbè, ve la leggo e poi vi dico, vi dico il significato. Giada, scusa se torno a scriverti, ma penso che quello che dici è semplicemente potente. Capisco sempre più in profondità quello che dici, anche riguardo i credomadre. All'inizio devo dire che saltavo queste parti, perché per me era solo importante raggiungere l'obiettivo. Attenzione al video di oggi che andremo a parlare appunto di questo qui. Per poi raggiungerlo e vedere che c'erano cose che non andavano. Quelli che dai tu sono grandi strumenti di autoconoscenza, che uniti all'uso della legge ci aiutano davvero ad essere felici. Mi sarò sperticata pure su questo, a dirvi che questo, proprio nell'altro video l'ho detto, che questo canale non è solo per raggiungere amore, felice, copinco, pallo. Quello è un risultato collaterale. Questo canale è per navigare questa intera vita terrena. Cioè vi do gli strumenti per farcela in questa vita terrena. Farcela però da vincenti, no? Da come fino adesso soppicanti da perdenti. Comunque, rispetto alla consulenza che ho fatto con te, volevo raccontarti la mia esperienza. Dopo essere stata lì a voler vedere realizzata la mia relazione con Bip, a tutti i costi, ecco che ho provato a fare come dici tu, e cioè ad affidarmi per trovare qualcuno che potesse soddisfare le mie necessità del momento. Ed ecco manifestarsi una persona bellissima nella mia vita, che mi ha insegnato la relazione di coppia sana. Poi con lui è finita purtroppo e sono tornata ad ascoltarti più forte che mai, perché sì, credo che come dici tu, l'universo fa le cose per il nostro bene. Sì. E quindi mi devo affidare e credere che quello che mi aspetta sarà ancora più bello. Grazie davvero di tutto. Vai fortissimo. Ah, vai fortissimo. Un abbraccio virtuale. Allora, in questa veramente email c'è un condensato di un sacco di cose che ho parlato nei miei video in questi, ormai andiamo per i tre anni, raga. Giugno, no, giugno-agosto facciamo tre anni del canale. Allora, innanzitutto, la questione, guardate l'ego quanto è beffardo, veramente quanto è beffardo. All'inizio, cioè questa persona si è fatta la consulenza con me, però all'inizio cosa fa l'ego? La sabota. All'inizio devo dire che saltavo queste parti, cioè praticamente il rintracciamento dei credomadri. E cosa succedeva? Ok, siccome non andava a correggere ciò che gli aveva mandato fuori pista le cose che aveva prima, li succedevano sempre. Cioè, finché non correggete i vostri credomadri, continueranno a succedervi sempre le stesse cose. Ok, quindi, che ne so, per dire, vi faccio un esempio. Finché non ho lavorato sul mio credomadri, che io mi sentivo un mostro, potevo truccame, raga, io ho speso ovviamente tanti tanti soldi, tra l'adolescenza e anche il tornaio in vent'anni, su trucchi, parrucco, vestiti, però non cambiava la situazione. Cioè, non cambiava la situazione. Cioè, a livello relazionale era sempre una fatica ad essere manca, la gente era tipo, no, piuttosto me lo taglio, grazie che stai con te. Cioè, punto. Finivo sempre, poi, etichettata come cesso, mostro, brutta, grassone e così via. Nonostante se io mettessi in campo tutto quello che credevo fosse utile per, appunto, attrarre un partner, interessare un partner. Sembrava una bella, affascinante. Concludendo, niente. Se non aver speso soldi, indudialmente. E tempo e fatica, logicamente. E ritornando peggio, neanche al punto di prima peggio. Ok? Perché? Perché non andavo all'album, neanche lo sapevo, raga. Non andavo a lavorare sul mio credomadri. Quindi, questa persona cosa ha fatto? Non si è fatta la ricerca dei credomadri. E quindi, cioè, e quindi stava sempre, appunto, a capo. Infatti dice, all'inizio devo dire che saltavo queste parti perché per me era solo importante raggiungere l'obiettivo. Per poi raggiungere e vedere che c'erano cose che non andavano. Cazzo a cazzo, non facevano altro che ripetessi. Cioè, il credomadri a negativo non veniva annullato, quindi ci si ritrova sempre nelle stesse situazioni. Se io ho il credomadri che prima o poi il ragazzo mio mi cornifica, potrò mettermi con tutti gli uomini su sta faccia della terra? Mi cornificheranno perché questo è il mio credomadri. Ok? E quello che tu dai sono grandi strumenti, sì, di autoconoscenza, cioè, quello che io vi dico e che vi ho detto, ad esempio, nel riguardo del video sulla conoscenza delle energie maschili e femminili che una volta applicate, quelle poi andremo avanti a spiegarle, vi risolveranno un sacco nella vostra vita. Vi risolveranno tantissimo nella vostra vita. Però è stato uno dei video meno visti. Meno visti. Meno visti. Non vi dico poi della parte maschile. Poi ignorata alla grande, ma io me lo aspettavo perché so come funziona l'ego su questo piano terreno. Si vede in che stato stiamo fra la questione uomo-donna. Però quell'esempio è uno strumento importante per, cioè, se non voi non conoscete voi stessi, non potete giocare, giocare nel senso e vincere in questo gioco che è la vita. Però, ok? E guardate anche qui. Dopo essere stata, comunque rispetto alla consulenza, dopo essere stata lì a voler vedere realizzata mia relazione con Bip, a tutti i cosi, col suo ex, ecco che ho provato a fare come dici tu. Cioè, regà, non è che, cioè, la questione è che a me non metto da niente in tasca, ok? In consulenza a dirvi, cioè, la maggior parte di volte quando vengono da me in consulenza, io lo sento perché so leggere, ho questo dono, che potrebbe essere un dono, alcune volte non ho un dono, mi saprei, di leggere energie dell'altra persona. Quindi, praticamente, non voglio dire che faccio una specie di profezia, però in base alle energie del momento che leggo ti dico, sì, è giusto lavorare per riappacificarsi col proprio ex, ma la maggior parte di volte invece no. Perché cosa succede? Come ho spiegato in diversi video, senza che vado giù nell'approfondire, la questione è che state lavorando su voi stessi, quindi state salendo a livello vibrazionale, energetico, spirituale e ci si crea un dislivello. E ecco che lavorando su voi stessi vi verrà normale che non volete più assolutamente quel tipo di energia, quel tipo di persona, quel tipo di trattamento e così via. Quindi andrete a ricercare qualcuno di compatibile adesso. L'ex vostro non è più compatibile. Non comprendete che questa realtà, che voi chiamate realtà il 3D, è come una rappresentazione teatrale, con atti e personaggi che entrano e escono nella vostra vita. Ma ogni volta voi strappate i capelli pensando che non entrerà nella vostra vita nessuno dei migliore, state attaccati con le unghie e con i denti, però, cioè, in alcuni casi è giusto rimanifestare l'ex. Cioè, io vi dico sempre, fate la domanda, se scende in questo momento Gesù Cristo con tutto lo squadrone angelico e vi dice, ah, cara, caro, stai cercando di manifestare il tuo ex, ma io ti dico che c'è una persona meglio per te, vuoi che te la presenti? Voi gli dite, no, non me ne frega niente, Gesù non me ne frega proprio niente, perché lui o lui o lei o nessun altro. Piuttosto la... Allora, ok, ma alla maggio parte i casi, ecco che poi cominciate a dire, beh, ah, vabbè, oh, mostramelo. E allora, che vuol dire? Che siete pronti a... ah, cosa, ma vostra come viene incastrati, vi viene bloccati a dire, no, no, oh, no, no. Perché entrano poi in scena altre cose. Entrano poi in scena altre cose, tipo, appunto, ci ho speso tanto tempo con questa persona, mi ci sono sacrificata, di energie, di tempo, d'amore, ma a te pare, oddio, ho la paura del futuro, che succede, lasci il vecchio per no, seppurdo, no, e così via, insomma. Ma guarda cosa è successo quando ha seguito i miei insegnamenti, che sono quelli dei maestri scesi, cioè non è che io mi so svegliare una mattina e adesso fa more metodo giata, no, regà, ci stanno vent'anni e passa che l'universo, cioè, abbombardamento, abbombazza, abbombardamento. Ed ecco, manifestarsi una persona bellissima mia vita, che mi ha insegnato la relazione coppia. Poi con lui è finita purtroppo. Ora questa persona può essere, la relazione può essere finita in due modi, per due modi. Uno, non avendo fatto un lavoro di credo negativi, ha logicamente rimesso in atto le varie cose, che ne so, prima o poi la storia finisce, le cose belle non durano, cioè, quindi, oppure potrebbe anche essere che è stato semplicemente una persona che gli ha mostrato qualcosa di diverso. Alcune persone entrano nella nostra vita per mostrarci, cioè, farci come, cioè, a volte quando andate a, a, che ne so, a, per darci una preview, non mi viene da parlare in italiano, la parola di preview, una, un'anticipazione, una degustazione di quello che potremmo avere, cioè, tu puoi avere questo, tu puoi avere questo. È come, che ne so, quando vi portano un assaggino in un ristorante magari stellato, portano un assaggino in un ristorante stellato, che ne so, o i piatti sono proprio piccoli così, vabbè, insomma, o come quando, ecco, facciamo così, facciamo come quando vai in gelateria e tu, ah, è bello questo gusto, e il banconista ti fa assaggiare, ti prende con la palettina di plastica, con il cucchiaino di plastica e te lo dà, e dice assaggia, ti piace, lo vuoi, te lo metto nel cono, e così via, cioè, quindi potrebbero essere queste due cose. Ma a prescindere da tutto, e, regà, la disciplina mentale, vedete che quando voi non seguite la disciplina mentale, quando voi non fate il lavoro su voi stessi siete destinati, destinati a ripetere sempre lì, cioè, a rimanifestare altra merda su merda. Ecco perché, come ho spiegato nel video passato, la disciplina mentale è fondamentale, che vi faccio o no, perché torno al reporter, io sto qua, vi do gli insegnamenti, e credo davvero, senza veramente abbagno di umiltà, di essere una delle poche, almeno qui in Italia, che davvero si sperdica, e vi garantisco che vi do tanto, veramente tanto, 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 perché, comunque sia, non è che vi dico, ah, che ne so, ti do solo questo piccolo assaggino e poi capatela da solo, oppure compro i miei mille mila euro di servizio e così, cioè, ok, veramente, perché io sono stata nei vostri panni, quindi, cioè, io avrei voluto una miancoala, lo avrei tanto, 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 tanto voluto, ma l'universo con me non ha mai pianificato un maestro. Cioè, per me l'universo è stato il maestro, o meglio, il maestro Gesù è stato il mio maestro, è tutto il mio maestro, e riesco più a interfacciarmi con lui. Me ne sono proprio accorta, credo, ieri sera, cioè, che, ovviamente, la questione con me è che io devo interfacciarmi per forza con il maestro, cioè, nel senso, riesco, logicamente, a interfacciarmi con l'universo, però, riesce meglio, a livello preferenziale, di interfacciarmi con il maestro. Quello che ho preso, cioè, ha dato infine, è tutto derivato dai suoi insegnamenti. Quello che voglio dirvi oggi, inoltre, è quello che mi ha colpito anche questa e-mail, è che voi siete focalizzati sul manifestare, logicamente, quello che desiderate, i vostri obiettivi, e, cioè, siete, siete, pur di raggiungere quello che desiderate, siete così disperati, la disperazione è un sentimento negativo che crea un blocco, siete così disperati che andate proprio a creare ancora più blocchi di quelli che già avete, ancora più limiti di quello che già avete, ancora più problemi di quello che già avete, perché la vostra disperazione nel voler raggiungere, cosa fa? Crea sentimenti negativi, e il vostro ego crea, praticamente, ancora più nutrimento, cioè, voi non vi accorgete che, questo, se volete, ci faremo un altro video, su, anche se poi ce ne ho fatto uno simile sull'ossessione, però magari posso riprenderlo nuovamente in mano della questione dell'ossessione, perché l'ossessione, purtroppo, in cui ci cadete, la maggior parte di voi, e anche io, ci cadevo facilmente, perché, praticamente, cosa fate? Voi stare lì, superossessionati, su, devo manifestare, quindi, cioè, state, devo provare, devo provare, devo provare, devo provare, devo provare, devo provare, e vi si crea la frustrazione, perché cosa succede? E qui entriamo nel vivo del video, nel vivo del video. Cosa succede? Che, praticamente, voi state focalizzati in un video in cui ho parlato dell'importanza dei segni, e così via, perché cosa vi ho detto, però, del, sì, ma non ossessionatevi sui segni, cioè, ok, dire, wow, il numero 11, uh, uh, oh, guarda, il numero 22, wow, oh, una piuma, che bello, sì, cioè, è bello, una coccinella, oddio, guarda, il suo nome su questa vetrina, cioè, è favoloso, è favoloso, però non ossessionatevi, non state solo a guardare i simboli, e a rimanere, perché, cosa succede? Rimanete nella energia del, sta arrivando, sta arrivando, no, ora vi dico una cosa, quando io, e questo richiede disciplina, regà, disciplina, disciplina, disciplina assordato, io ci ho messo anni, regà, per entrare nel credo cieco, di cui ho parlato in alcuni video, regà, io ci ho messo anni, 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 e vi dico una cosa, perché io qui non sto a nascondere niente, che, nonostante, ormai adesso, diciamo che sto al 99% risorta, c'è sempre, succede che c'è con l'1% di, eh, un attimino, perché, regà, più andrete avanti, più vorrete cose ancora più, eh, più importanti, no, neanche più importanti da manifestare, cioè, è come per, che ne so, un atleta, più si va avanti, più logicamente, che ne so, per un ginnasta, cioè, più si va avanti, più gli esercizi diventeranno più complessi, che ne so, ok, così, il record è da battere più alto, che ne so, se io sono, come si dice, un runner, vabbè, quelli che corrono, che adesso mi sfugge il nome, è normale che se ho battuto un certo record di velocità, cioè, mi devo superare, mi devo superare, la prossima gara mi devo superare, cioè, quel record che ho battuto di velocità, adesso lo devo superare, cioè, comprendete, ok, quindi, quando io desidero manifestare qualche cosa, io, all'inizio della manifestazione, entro subito nel credo cieco, però, regà, ci vogliono anni, ok, se non so che cazzo è il credo cieco, così via, qui sotto nel box informazioni, no, neanche, tra i commenti vi linko i video dove ne ho parlato, regà, però c'è grazie dove di allenare, non è una cosa che, cioè, non è una cosa che ci si entra in due secondi, però, dopo, cioè, in, che so, mi sto deciviando da un mese, cioè, regà, io ci ho messo anni, sapete che qui io non nascondo niente, perché anche a me, non mi tornerebbe niente in tasca, e mi sentirei anche, cioè, non mi sentirei neanche a posto a mentirvi e dirvi, come alcuni coach, specialmente nell'ambito americano, wow, un secondo ci ho manifestato questo, ci ho messo un secondo, sì, cazzo, però, di, racconta, perché poi si crea un senso di frustrazione, cioè, io capisco, tu vuoi far video da millemila like, visualizzazioni, perché è più figo dire, ehi, guarda come ho manifestato sto villone a Miami da 150.000 stanze e 3.000 bagni, tutto in, soltanto scrivendo una frase, ho il villone a Miami con 5.500 stanze, cioè, no, mi si appia per culo, mi stai prendendo per il bucio di culo, come uno, una cosa dice, ma per il bucio di culo mi sta appia, no, no, non ce l'ha nell'arnaso, però tanta gente invece ci casca e comincia a dire, oh, guarda, questa è stata scritta solo, questa tecnica, solo una parola e ha manifestato, ma no, è dietro tutto, c'è, è tutto il lavoro dietro, che in silenzio come lo dice, perché se no, eh, dopo, eh no, io capisco che ingazzurrisce ancora di più la soluzione facile, non è che so, a me piace essere comunque sia masochista, su me stessa, cioè, la raga, una soluzione facile la voglio pure io, la voglio, insomma, ma sapete perfettamente che ormai aveva già fatto due coglioni così, che ci stanno le soluzioni, cioè, in senso ci sta il lavoro, il lavoro, il tirasse sulle maniche, il lavoro, ci sta appunto, fine, o come ho detto, l'universo, a un certo punto state pur tranquilli che ve rompresti i coglioni pure delle cose, delle soluzioni facili, ve posso garantire che siete, questo, eh, che siamo in questa situazione perché saremmo rotti al cazzo delle soluzioni facili, perché noi all'inizio, quando fummo creati, era un nanosecondo, cioè, veramente Gesù, tutti i mini Gesù, che manifestavano bum 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 bum, così, a un certo punto hanno cominciato a dire, c'era un percazzo, però comunque si manifesta così bum 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 bum, creiamo qualche difficoltà, e eccoci tutti qua, complimenti a noi, grandi, grandi, eccoci, ok, ora sapete anche questo, sapete, all'inizio era dopo bum 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 bum, poi a un certo punto abbiamo cominciato, e madonna che palle, c'è queste cose che vengono manifestate in due secondi, che cogliene, non c'è nessuna sfida, nessun gusto, nessun pepino a manifestare, rendiamoci difficili la situazione, sì, favoloso, che grande idea, bello, rendiamoci difficile la vita, eccoci qua, favoloso, quello che stiamo facendo è cercare di ritornare come eravamo all'inizio, cioè, veramente, un premio, un premio, l'Oscar veramente a noi, Oscar, Nobel, qualsiasi premio a noi, veramente, cioè, stiamo cercando di ritornare come eravamo all'inizio, un applausione per noi, grazie ragazzi, uuuuh, cioè, ok? Quindi, cosa succede? Quando io inizio a lavorare su una manifestazione, io entro subito e credo cieco, cioè, prendi, non guardi i risultati, il premio metterlo sì, non guardi i risultati, quindi anche che mi capita, uuuuh, guarda una, uuuuh, una cucinella, uuuuh, una cosa di Angelo, non ce sto, cioè, mi stanno solo a significare che è tipo, sì, è già tuo, no che sta arrivà, frena, no che sta manifestassero, no, no, non so anche l'energia, in cui voi ve ce mettete, ho visto la prima bianca, pur di che l'Angelo mi sta dire, uuuuh, guarda che Gustavo è quello che vuoi manifestà, sta arrivà, ah, complimenti, no, la prendo per, Gustavo è già tuo, già fidanzata, eh, oh, sono vita dal matrimonio, così, io non guardo i risultati, sto già nel credo cieco, che è già mio, mia, 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 come i gatti, mia, 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 fine, fine, però capisco che raga, che ci vuole disciplina mentale, ok, e ci arriverete, io non mi, non mi ne frega un cazzo di quello che gli altri dico, io faccio proprio il maestro Gesù, quando ad esempio le sorelle Lazzoli dissero, maestro, è morta da tre giorni, puzza, mo che è sta storia che il tuo cuore suscità, ma che è, ti sei bevuto, cosa la brocca, ma è, ma il maestro non mi ne frega un cazzo, non si è messa di, sta un po', queste che stanno, e vabbè ma c'ha ragione, tre giorni che è morto, ebbè no, allora no, è vero, già, eh no, vabbè allora non lo posso fare, avete ragione, mi avete convinto, non posso farlo sto miracolo, no, no, cioè gli è passato proprio, ma perché qualcuno sta parlando, avete sentito, no, ok, mi sembra che qualcuno avesse detto qualcosa, cioè fine, Lazzaro, risu, vedi, ssh, aria, arsile, ciao, Lazzaro, svegliate, che la cuore è finita, cioè così, fine, non se ne, cioè non, proprio lì ha, alle asfalto, arrulo compressore, tut 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 sono tutto 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 tutto, cioè, mi chiede frega un cazzo, a me non mi frega un cazzo, me la dico poi così, a me non mi frega un cazzo di nessuno, anzi, più la gente viene a dirmi, si può fare, più io arrulo compressore, tut 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 non me frega un cazzo, lo sapete perché non mi frega un cazzo? Perché per più di 30 anni ho dato retta a questa gente che diceva, Giada è questo, Giada può fare questo, Giada non può fare questo, Giada può essere questo, Giada non può essere questo, no, ora nessuno viene a dire Giada quello che può fare, quello che non può fare, non me ne frega un cazzo dei tuoi limiti, perché sono tuoi e non sono miei, quindi ficcati di super, va bene, da dove ti sono venuti, non me ne frega dei tuoi limiti, non ce ne me ne faccio niente, punto e basta, quindi io vado proprio al risultato, risultato, cioè, non sto lì a guardà, va vedere a che punto, no, che cazzo voglio, ce l'ho già, ce l'ho già, già, pure che nel mio 3D, nella mia realtà in questo momento c'è il voto cosmico con l'ego, non c'è nessuno, uno, 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 fine, non me ne frega niente, capite? Niente, io vado avanti e ti dico, è così, ce l'ho già, ce l'ho già, fine, e non so neanche a guardare il tempo, e di questo voglio parlare più avanti, perché farò un approfondimento sui tempi divini, non so neanche a guardare il tempo, a dire, ok, vabbè, sto a dire che ce l'ho già, già da quanto, una settimana, no, perché se faccio questo, in mattina mi interviene questa lì, eccomi, stai pensando che, eh, è vero, non ce l'hai, no, è una settimana che ti sta a dire che non ce l'hai, c'è ragione, non si è visto a nessuna parte, non ce l'avrai mai, lo sai come funziona, non ce l'hai mai, no, non sto a contare ori, minuti, c'è, 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 il coso, fermo, c'è, io ho gli orologi, gli ho banditi, non porto orologi, e io ero una piena di orologi, cioè non si poteva uscire a casa senza orologio, non si poteva dire senza orologio, cioè, quindi, gli ho banditi, io non guardo il tempo, perché dovrei guardare il tempo quando ce l'ho? Perché dovrei stare lì a dire, vabbè, mo' arriva quando ce l'ho? Perché? Perché? No! Ma questo richiede una maestria? Sì, non vi è più per culo, ci ho sudato sopra per anni, regà, perché non è semplice entrare nel credo madre, nel credo scuola cieco, positivo, che voi dite, ce l'ho già, no, lo capisco, regà, lo capisco, cioè, non è che, non vi è più in giro, regà, non è stata una cosa di, vabbè, me ce so, applicata una settimana e, ecco, no, no, tuttora sto lavorando su delle cose e, regà, la disciplina è veramente, cioè, cioè, drenante, proprio, cioè, così, cioè, veramente, ok? Dunque, funziona così, poi, ce credo, non ce credo, non me ne frega un cazzo, lo voglio applicare, non lo voglio applicare, mi sono rotta le palle, no, vabbè, vado a vedere l'altro video, ma l'altro coach dice così, fine, 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 è così, è così, poi, regà, torno a ripetere, ci volete credere, ci volete credere, ma io lavoro in questa maniera, così, così, cioè, io divento veramente un soldato del credo cieco, io credo, ancora prima di vedere, questo è il mio motto, sapete, io credo ancora prima di vedere, perché così insegnava il maestro, così funziona, così funziona, questo è quello che io applico con me stessa, quando desidero manifestare qualcosa, io, già, regà, io, cioè, torno a ripetere, questa è una paracose, perché voi giudicate importanti, è normale che per una busta in sala, vabbè, manco dovreste stare a sperticare, cioè, nessuno si è spertica per una busta in sala, non so, però, lo guardo e dico, è mio, ce l'ho già, è mio, e ce l'ho già, fine, fine, non, cioè, non me ne preoccupo, fine, e se il mio ego viene lì a dire, eh, darling, tesoro, hai passato una settimana, ancora non è, io, tipo, che settimana, io vivo nel qui né ora, per me non esiste, cioè, assolutamente, quindi, no, ce l'ho, poi no, poi ce l'ho già, ah, no, non credo, ah, stai tentando di mai restare, carica, grazie, questo, oh, che ne so, questo oggetto firmato, non lo avrai mai, perché ancora non ce l'hai, te lo so, nel tuo armadio, e io, tipo, no, ti stai sbagliando, ce l'ho, no, nell'armadio, non l'hai guardato, sì, è lì, no, se lo apri non c'è, ti dico che è lì, no, sì, è lì, nell'armadio, è solo che oggi non ho voglia di mettermelo, appunto e basta, ok, fine, se metti che voglio manifestare, andiamo con una cosa, voglio manifestare un malinone, ok, un malinone, e metti che il mio che viene a dire, è un mese che sta a dire che vuoi manifestare un malinone, non sta ancora, no, è nel garage, non è neanche in garage, sì, ho il garage, ho dentro il mio Ferrari da mille, mille euro, certo che ce l'ho, no, non c'è un garage, non c'è una macchina, sì, certo, è solo che oggi mi va di passeggiare, poi domani lo prendo, cioè io parlo proprio così, sembro matta, regà funziona, funziona, fate quello che cazzo volete, funziona, funziona, ma non è che dire, ci sono tante testimonianze che vi pubblico su le storie di Instagram, da gente che ha fatto questo, e a gente come me e voi, non hanno superpoteri, non so, alieni, hanno applicato quello che insegno, hanno applicato quello che insegno, hanno dovuto lavorare sopra, sì, però questo è, questo è, questo è quello che io faccio, così, vado dritta a treno, dritta, 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 dritta a treno, quando voglio qualche cosa, cioè non guardi i risultati, cioè non è che guardi, vado dritta a, cioè guardo, no, no, non guardi i risultati, i segni, yes, thank you, non guardi i segni, vado dritta il risultato, che ce l'ho già, qual è il risultato, cioè non guardi, quello, non la metta di, beh, allora, fino adesso ho collezionato 50 biume bianche, 30 numeri 1, e poi ho visto dieci volte il suo nome in giro, e poi ho visto pure tutti i tizi che gli esomigliavano, no, 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 quando vedo i segni dico, ah, wow, è l'universo che mi dà il high five, mi dà, ehi, il 5, batti 5, punto, perché sapete perché me lo dà? Perché è già mio! Questo, non mi metto nell'energia del, ok, no, questo vuol dire che sta per arrivare, no, non sta per arrivare, ce l'ho già, dovete scegliere l'energia in cui sta, o nell'energia del sta per arrivare, o nell'energia ce l'ho già, sta per arrivare, ce l'ho già, sta per arrivare, ce l'ho già, che energia scegliete? Che energia scegliete? Fate il vostro gioco, come è che dicono un francese a poker, non ce l'ho mai giocato, però, com'è? Fate il vostro gioco, che cazzo energia scegliete? Fate il vostro gioco, non è l'energia, però vabbè, come funziona, è così, ok? Poi, l'altro giorno ho visto un film, però ce l'ho di fare un video a parte, perché è veramente interessante, con Ugo Doniazzi, che è favoloso, ho visto il film Il Vizzietto, non l'ho mai visto, e a parte è spassosissimo, ve lo consiglio a vedere, veramente, veramente spassosissimo, guardatelo se non avete, ma prego Dio che non siete sul mio canale con questi cazzo di pregiudizi, se non avete pregiudizi sull'omosessualità, ma se siete sul mio canale non dovreste averle, questi cazzo di pregiudizze, ok? E è fighissimo, vabbè dai, ve lo dico, faccio un po' di spoiler, è fighissimo, perché praticamente, quando cominci a vedere i film, dali svegliate, cominci a dire, cioè, è finita, perché cominci a dire, vabbè, si continua di quello, ma pensa a questo, ma ti succede, ecco, è successo, hai pensato questo, cioè, davanti a tv parli da sola, parli, è successo questo, perché hai pensato questo, no, non lo fai, non lo pensare, ma t'accate, è accaduto, ecco vabbè, e insomma c'era, praticamente, la storia, vabbè, di due ragazzi che si innamorano e un ragazzo è praticamente, c'ha due padri come genitori, e vabbè, l'altro invece è una famiglia tradizionale, e praticamente il padre di questa ragazza è un rappresentante politico di una, cosa, di un partito super puritano, sapete, quelli chiesini, pietre predini, c'è, noi siamo per la famiglia tradizionale, noi siamo per non peccà, noi siamo per l'immagolata, proprio che, cioè, noi, vita precisa, e praticamente cosa succede? Che a, gli si manifesta, a questo patriarca, gli si manifesta tutto quello di cui aveva paura, poi ne parleremo, magari ne faccio un altro video, ci faccio, perché voglio parlare della differenza delle due paure, esistono due paure, una che manifesta e una che non manifesta, e, e lì si manifesta tutto, tutto quello di cui aveva paura, cioè, praticamente il suo partito va a, veramente, alla berlina, a ridere, eh, perché, praticamente il, come si dice, il capo del partito, eh, viene, schiatta, e, in mezzo a, schiatta con le, cosa, eh, viene trovato morto, stecchito con una prostituta, viene trovato, quindi proprio, ma come, stai a predicare, a di che la famiglia santa invece è così, e quindi viene messa a berlina, in più, praticamente, poi dopo si verrà a scoprire dire, che, eh, lui pensava di fare un matrimonio, perché la, la figlia l'aveva, l'aveva antortata dicendo, perché c'era paura, ovviamente, della reazione al padre, dicendo che era una famiglia per bene, di diplomatici, invece poi viene a scoprire che era una famiglia di, di omosessuali, di più, una era una dracquenna, ma stiamo scherzando, tutte queste cose, cioè, quindi, è favoloso, perché alla fine gli si manifesta tutto quello di cui aveva paura, tutto, gli va a potare tutto, la vita personale, la vita lavorativa, tutto, cioè, guardatevelo quel film, perché, vabbè, è fighissimo, è bellissimo, vabbè, Ugo Don Gnazzi, ricamate, che cazzo, stiamo a parlare, e poi c'è l'altro attore francese che fa il marito, è spastosissimo, guardatevelo, guardatevelo, a parte che il set è sulla rivela francese, che è stupenda, è bellissimo, però guardatevelo, perché poi, infine, è bello come tu il vedi da risvegliata e dici, te la sei tirata addosso, cioè, te la sei tirata addosso tutta questa merda, perché è una discesa, praticamente, negli inferi di questo patriarca, che dà l'alto moralismo, ma che vi fa vedere che poi, cioè, regà, a me piacciono tutti quanti, perché poi anche esse va pure a batter petto, si è, poi, ah, fin fine, regà, ma che stiamo a parlare, così, vedi, come diceva Gesù, ma nannate va a battere il petto in mezzo a piazza pubblica come i farisei, a bugiardi, perché poi a chi è senza peccato scaglia la prima pietra e nessuno scaglia la pietra e nessuno, ma perché tutti nella nostra vita avremmo commesso quello che viene bollato come peccato, regà, ma chi è che vive una vita super morale o che non ha un tipo di pensiero o cosa, è veramente irrisorio e non siamo stati neanche mandati qui per vivere una vita, non ci è mai stata richiesta una vita, a parte che l'universo non giudica, ma non ci è stata mai richiesta di vivere una vita da sceli, perché l'universo ha bisogno, comunque sia, dei vostri errori per comprendere ora come rindirizzare, cioè, ha bisogno, vivendo un universo di dualismo, avendo creato il dualismo, di sapere, se hai fatto sta cazzata, ok, la prossima volta come te conforterai, ti continuerai a fare sta cazzata, e questo è quanto, e ecco perché siamo in questo momento storico così, da serie, ha rifatta la cazzata dalla guerra, adesso, come ne uscirai, arriverà il momento che subire il testo e capisci che ste cazzate non vanno più fatte, non ti tornano più un aiuto, non ti servono a niente, te stai solo a fare i problemi te, i danni te, te stai da zappata solo sui piedi, cioè, avete finito qui con ste guerre, sono un po' dei millenni che andate avanti, quando ve entrano la testa che è finita, che dovete vivere fra fratelli, invece de stava a cortella, e questo è quanto, l'universo è una grande pazienza, ecco perché vi dico, regà, state tranquilli, state tranquilli, regà, non schiopperemo, anche perché ci fanno in mezzo tante cose, tante, tante, tante cose che non schiopperemo, assolutamente, non, cioè, no, non andremo a finire come i poveri dinosauri, no, non ci autoelimineremo, vabbè, i dinosauri non si sono autoeliminati da soli, però, diciamo che, non andremo comunque, la terra non rimarrà una palla, un cratere unico, schioppato, così, e quindi state tranquilli, e niente, ho fatto un video lunghissimo, saranno 40 minuti, ma a me piace chiacchierare, a voi piace ascoltare, perché so che è così, e, polli in su, iscrivetevi al canale, yes, un bacio amore, c'era quel giochetto, ricordate che mi mettevate, mamma ragazzia, un terazzo ho fatto una cosa così, e poi ho passato nei mani dell'altro, non mi ricordo come si chiamava quel giochetto, facciamo, cioè, vabbè, io so dell'anni 80, probabilmente che è nato più recente, tipo, Anon, a Boomer, e questo, ciao.